Buongiorno signore, il mio nome è Bohmilditie, lo guardo ma non voglio guardarlo, lo guardo ma non voglio guardarlo, lo guardo e sono qui per il posto del cameriere signore. Come vuoi? Come vuoi? Ah sì, come lo vuole, col senare? Sì, una corona e oltre, non ho mai visto nessuna a cui fra che stesse vedi come lui. Buongiorno, come avete fatto a trovarmi? Leva Taxi Man, da come fratello. Il vostro dovere è pensare sempre e soltanto al partito nazionalsocialista e mettere al mondo dei figli che devono essere educati nello spirito del partito. No, dice un bambino. Grazie a tutti.